Prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Doveva essere un momento di festa, durante il quale gli invitati avrebbero dovuto festeggiare le nozze degli sposi. Ma, come riportato da fanpage.it, la terrazza della sala ricevimenti è improvvisamente crollata, facendo precipitare nel vuoto decine di persone. Il bilancio del crollo è molto grave, almeno una persona è morta ed altre 39 sono rimaste ferite, delle quali 4 versano in gravi condizioni. Nella sala era in corso il matrimonio e per festeggiarlo erano accorsi oltre un centinaio di persone, quando la terrazza della struttura è crollata all'improvviso, finendo per trascinare giù decine di invitati. Sul posto, subito dopo l'allarme, sono arrivate decine di ambulanze, oltre ad elicotteri di soccorso, sanitari, polizia e vigili del fuoco. 39 persone risulta ferite, mentre la vittima è una donna di 69 anni che è morta per arresto cardiaco. La terribile tragedia che ha funestato il matrimonio si è consumata nel comune di Saint-Pierre, in Francia. La procura di Aurillac ha aperto un'indagine per omicidio colposo e lesione colpose. Allo scopo di chiarire le cause che hanno determinato il crollo improvviso della terrazza durante il ricevimento di nozze.